Croccante fuori e con un torlo super cremoso. Devi provare subito l'uovo croccante al parmigiano. Versa un cucchiaio di parmigiano in padella, forma un cerchio e fai cuocere un minuto. Aggiungi un uovo giusto al centro e cuoci a fuoco basso. Ti consigliamo di usare una padella antiaderente in modo che la cialda non si attacchi. Dopo qualche minuto servi su una fetta di pane con un po' di pepe e sale. Senti quanto è croccante! In alternativa puoi servirlo piegato su se stesso e mangiarlo direttamente con le mani. Addio bilancia! Prepara una torta gustosa e filante grazie a un semplice vasetto. Versa 3 uova in una ciotola. Aggiungi un vasetto di yogurt, uno di olio e uno di latte. Ora versa un vasetto di parmigiano. 3 vasetti di farina e una bustina di lievito per torte salate. Unisci all'impasto il prosciutto, la provola e le zucchine. In forno a 180 gradi per 25 minuti e assicurati che la torta sia cotta facendo la prova a stecchino. Ma come si fa a resistere? Calde palline soffici, pronte con soli due ingredienti. Si preparano in 5 minuti e sono perfette per l'aperitivo. Mischia il parmigiano insieme agli albumi. Forma delle palline tutte uguali. Friggi in olio caldo finché non saranno belle gonfie. Non sono bellissime? E se le vuoi più croccanti, passale nel pangrattato. Saranno ancora più resistibili. Noi le abbiamo divorate. Noi le abbiamo divorate. Noi le abbiamo divorate. Noi le abbiamo divorate. Grazie a tutti.